Ciao a tutti ragazzi, oggi notizia bomba, super bomba. Arriva la conferma, ancora se ce ne fosse bisogno, che il 29, come potete vedere, appunto vi avevo già annunciato che c'era il Level 5 Vision, la seconda parte dopo quello di aprile che c'è stato appunto all'inizio di quest'anno, arriva la conferma che ci saranno novità su Inazuma Eleven Victory Road compresa la data d'uscita. Quindi andiamo a vedere velocissimamente, siamo qui sulla pagina ufficiale, sull'account Twitter ufficiale di Inazuma Eleven, di tutta la serie di Inazuma Eleven, quello internazionale, vediamo come un'ora fa l'account ufficiale ha pubblicato questo reminder che ci ricorda che il giovedì, anzi mercoledì scusate, il 29 settimana prossima ci saranno le ultime novità su Inazuma Eleven Victory Road, potremo guardare il live stream direttamente su YouTube, sarà ovviamente in giapponese, però ci saranno i sottotitoli in inglese e in cinese, quindi potremo vederlo comunque in diretta capendo tutto quello che viene detto e poi abbiamo il showcasing, the release date and the new footage, quindi ci confermano che verrà annunciata la data d'uscita ufficiale del gioco e vedremo del nuovo gameplay probabilmente proveniente da una versione molto più aggiornata, simile a quella finale del gioco, quindi probabilmente molto più, diciamo, migliore, molto migliore rispetto a quella che abbiamo visto l'ultima volta e alla demo che c'è stata in occasione del Tokyo Game Show ormai oltre due mesi fa, quindi è probabile che avremo tutte le informazioni che ci mancano, ovviamente quella che aspettiamo di più è effettivamente la data d'uscita, ma vedere del nuovo gameplay proveniente da una versione molto più rifinita, molto più fluida del gioco ci può anche dare modo di capire a che punto è il gioco, cosa ci aspetta in quello finale. Quindi ragazzi io non vedo l'ora, manca meno di una settimana, io ovviamente cercherò di portarlo addirittura subito in diretta se riesco, dato che appunto comunque è un mercoledì quindi non è detto, ma altrimenti comunque subito dopo registrerò un video ad hoc e vi darò tutto quello che c'è da sapere sulle novità che verranno annunciate per Victory Road. Quindi ormai ci siamo, manca poco, voi come al solito fatemi sapere cosa ne pensate se anche voi dopo così tanta attesa non vedete l'ora di scoprire data d'uscita il nuovo gameplay di Victory Road, noi ci vediamo prestissimo, lasciate un like e ciao! Grazie a tutti!